E niente, abbiamo constatato che sono il migliore nelle Scouts 1.9 Cosa cosa cosa, Dani? Lo hai detto? Va bene, vediamo un po'. Benvenuti in ragazzi, che è il gruppo? E oggi siamo in questo nuovo video, oggi siamo qui per dimostrare a Dani che non è il migliore nelle Scouts 1.9 ma anche noi ce la sappiamo cavare, come si arriva giù, perfetto, si arriva così, mi sono i primi problemi non ho mai fatto, oh mio Dio che figata non ho mai fatto uno Skyworks in 1.9, non ho mai fatto uno Skyworks in questo server se dobbiamo dirla tutta però, noi siamo più riusciosi della nostra potenza che abbiamo mostrato negli iPixel e adesso sicuramente mostreremo anche la nostra potenza qui, che cosa sta, oddio allora comunque per tutti quelli che mi hanno chiesto che texture fosse questa perché mi avete assillato in un modo incredibile cercando di capire che texture sia esiste una cosa chiamata descrizione e poi secondo voi, questa texture cosa potrà mai essere? l'avete vista 300.000 volte una texture del genere, esatto è l'Infinite soltanto riadattata a 1.9 quindi cercate Infinite 1.9 non ci crederete mai comunque oggi non siamo qui per parlare di questa texture ma siamo qui per parlare di quanto possiamo essere forti oppure no ciao 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 bellissimo ciao 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 questo pvp è stato estremamente emozionante e io devo capire quale delle cose è me uh un arco carino diciamo che siamo messi acqua grazie ah perfetto sì così non sono chiuso no così sono messo molto meglio perfetto allora dobbiamo bucare per uscire ma guardate mi docca pure bucare per uscire ok perfetto siamo sopra ma che cazzo sei no sei buono no oddio eh no 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 perfetto ok prossimo oddio che carina la torta buonissima ho fame oddio mi ha fatto venire fame che carina ma è bellissima sì dobbiamo escludere anche il fatto che Dani era in team quindi è un po' diverso perché io sto da solo però vabbè facciamo finta di niente dimostriamo lo stesso chi sono i prosi però sì tipo prima cosa scendi seconda cosa mi servirebbe uh ok perfetto un'arma e mi hanno detto anche che nella 1.9 la roda è inutile ora io non sto ad ascoltare le persone perché perché ti pare che la roda è inutile ok no guarda gentilissimo ok master nello schivare le frecce guarda gentilissimo ma no ah si vuole lanciare attenzione attuerai il lancio no perché la roda ah era questo forse che eh eh vai giù vai giù vai giù vai giù vai giù vai giù tipo ho capito una cosa ok uno giù ah e no e no e no e no ma lo sapete che tipo il team non è concesso però state teamando lo stesso non si è accorto di me questa vita è stupenda ciao attenti dietro perché io te lo dico stai arrivando dietro io te l'ho detto poi fai come ti pare ce n'hai uno dietro eh no oh no guarda me ne vado sono gentilissimo capisco no 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 voglio no 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 devo dimostrare che sono il più foro ce l'hai dietro non se ne è accorto che cazzo oh no perditi ma no ragazzi è un solo è un solo è un solo è un solo apposta perché sei da solo se sei in team non è un solo capisci ok capesci 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 è un solo non è morto quello lì è un solo ragazzi è un solo riesci ad andare giù riesci ad andare giù è un solo ma è un solo perché devi team maresonzo porca puttana è un solo come cazzo si scrive lì porca puttana è un solo e loro team ma no va bene nella prossima volta chiamatelo solo ma se vuoi team io dico no ci stanno i team di là che cazzo perché devi venire a roppere le palle a me come ti mostro di essere il più forte oh questa mappetta invece è carina oddio sono tipo ci stanno pure quelli donna mia che mischia ma loro sono più avvantaggiati perché stanno verso il centro questa cosa non va bene dobbiamo rimediare dobbiamo dimostrare una gap ok l'unica cosa che non mi fa impazzire dell'1.9 è il sistema di combattimento perché per il resto e le scavors qui sono organizzate veramente bene diciamo che sono veramente fatte bene perché si diciamolo sono veramente carine soltanto che appunto il sistema di combattimento non è il massimo non mi fa impazzire il sistema in generale dell'1.9 e perché mi fa salire qui su se non c'è niente wow sono sopra mentre hanno mi detto che io sono il dio dei polli eh qui ci sta tipo un momento con gli occhialini aia no ok un momento occhialini no va bene perfetto allora io devo farmi un ponte la road non ha nessuna cosa no non serve a niente non serve a niente la road lui non prende knockback laio cheppolo ok abbiamo cheppolato il pvp iniziato wow ci colpiamo tanto non ci stiamo colpendo per niente perfetto cosa mi rappresenta quella roba non hai messo proprio per niente incredibile la spada colei che fa danno ah eh non l'ho preso questo pvp capite perché adesso dico no dai seriamente capite perché dico che dai su ma che tristezza è ma esci forse faccio finta di essercene andati lui esce ah ah e adesso hai capito ahia ahia bastardo bastardo hai voluto fottere con la persona sbagliata ah 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 eh no però l'ho ucciso almeno capite adesso il mio problema non è che io non sia forte è che il sistema della 1.9 di combattimento è un qualcosa di oh ma che cosa è questa roba non lo so minimamente però sembrerebbe essere figa per chi è nera solo per quello il sistema della 1.9 di combattimento ti fa sclerare già minecraft è un gioco che ce la mette tutta per farti sclerare perché diciamo è un gioco a combattiti pieno di bug ma poi ci si mette pure adesso la 1.9 perfetto perfetto così facciamo ancora che la gente sclera ancora di più perché se no si sclera poco o non va bene non va bene facciamola sclerare tanto di più io adesso ho tutta sta armatura oh mio dio sharp ok allora posso vincere tantissimo perché c'ho sharpness no 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 capiamoci c'ho sharpness 5 o 4 4 e posso farmela in 5 perché ne ho un'altra un'altra ah ma che cazzo eh potevo vincerla perché avevo sharpness però poi eh comunque spero che questo video vi sia piaciuto se così fosse mi intera lasciare un like un commento ci vediamo domani con un progetto se vi ricordate io sono più forte di Daniel e Skyward soltanto che è stato un momento un po' così di calo però c'è un video domani da Red Black è tutto ciao ciao